Thomas Evangelista, giocatore della Shevinad, torni in squadra dopo tanto tempo. Sì, sono felice di essere tornato, un po' meno per il risultato, però possiamo lavorare tanto e sicuramente ci riscatteremo. Thomas, non era questa la partita che dovevate cercare di fare punti, comunque ve la siete giocata tranquillamente? Ce la siamo giocata e nonostante i cinque gol di differenza, una partita in cui abbiamo fatto il nostro, la squadra avversaria era una squadra forte che è comunque vertice del campionato e si vede che hanno gente più forte di noi. Adesso però arrivano le partite più importanti per voi, le due partite con Barletta, quelle sono fondamentali, anche quella con Mirto la potete giocare, anche se poi adesso il calendario vi mette la trasferta di Bisceghi. Sì, un rush finale dove dobbiamo dare tutte le nostre forze per cercare di arrivare alla salvezza. Siete una squadra giovanissima, adesso arrivi tu, dai un po' più di esperienza e anche un po' più di tecnica, possiamo dire. Sì, sì, sono felice di aiutare i miei compagni, ormai posso dire amici, visto che giochiamo da tanto e questo. Le due partite, anche se non eri presente, comunque che hanno fatto prima con Torre Maggiore e con San Michele, sono state partite ottime per voi, paradossalmente perdere il derby vi ha fatto scattare qualcosa in più? Sì, sono state partite di personalità da parte della squadra, dove hanno fatto punti e prestazioni importanti e speriamo che anche le prossime saranno così. Ultima cosa, voglio chiederti che cosa puoi dare a questa squadra? Ma, non lo so, diciamo un aiuto sicuramente ai miei compagni, ma l'aiuto è reciproco, loro aiutano me, io aiuto loro. Credete alla salvezza ovviamente? Sì, sì, certo.